Salve cari italiani, sono Lischlein e oggi sono qui per darvi la chiave della porta di una nuova era di opportunità finanziarie in Italia. Ci parli del suo innovativo progetto di governo. Dicono che con un contributo di soli 250 euro si può diventare soci e guadagnare fino a 3.000 euro al mese. È davvero così? Sì, è assolutamente vero. E non si tratta solo di un progetto, ma di un nuovo ciclo di prosperità finanziaria. Abbiamo condotto una rigorosa sperimentazione di tre mesi con oltre 20.000 italiani e i risultati hanno superato le nostre aspettative. Abbiamo ricevuto il sostegno del governo e il finanziamento di grandi miliardari come Giovanni Ferrero. Sembra emozionante. Come funziona esattamente questo progetto? Ci illustri i dettagli. È molto semplice e non richiede molto tempo. Abbiamo implementato tecnologie avanzate e reti neurali per creare una piattaforma finanziaria innovativa che genera alti rendimenti. Oggi è possibile diventare un microinvestitore con un deposito di soli 250 euro e iniziare a guadagnare un reddito costante fin dal primo giorno. Non si tratta di un semplice investimento, ma della possibilità di liberarsi dalle catene finanziarie, di lasciare finalmente un lavoro poco amato, di estinguere un mutuo, di acquistare un'auto desiderata, di dare ai propri figli un'istruzione di qualità. I partecipanti al progetto iniziano a vivere in un modo nuovo. Fantastico. Come si fa a far parte di questo movimento finanziario rivoluzionario? È facile. Innanzitutto basta registrarsi sul sito web compilando il modulo in modo accurato e corretto. Attendete che l'operatore della piattaforma vi chiami sul vostro numero di cellulare per confermare la registrazione. Entrerete nella storia effettuando depositi minimi e raggiungendo un reddito di 2.000-3.000 al mese. Il vostro futuro finanziario è una vostra responsabilità e sta a voi decidere se continuare a lamentarvi con il governo o iniziare ad agire ora. Fantastico. Grazie Ellie. Secondo me questo è un grande passo del governo verso il popolo italiano. Amici, questa è la vostra occasione. Non perdetela. Iscrivetevi subito e diventate l'artefice del vostro processo finanziario.